Grazie a tutti 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 piuttosto alle pecore perdute della casa d'Israele, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Parola del Signore. E' proprio strano il cuore dell'uomo. Nonostante veda le grandi opere del Signore, nonostante veda i grandi benefici, nonostante l'amicizia del Signore, la benevolenza del Signore, non sempre risponde con la fedeltà, risponde con l'amore all'amore. E' quello che ci ha raccontato la pagina del profeta Osea, che è profezia stesso, è il profeta stesso che incarna nella sua vita il messaggio che gli viene consegnato. E' lui stesso che fa esperienza della infedeltà di Israele, mentre il Signore continua ad essere buono. Perché Dio è buono, è veramente buono. E se solo leggessimo la storia, non solo la storia della salvezza, non solo la storia degli uomini, ma la nostra personale storia, con gli occhi della fede, quella fede che il Signore ci vuole dare in abbondanza, ci scopriremmo persone veramente beneficiate dal Signore. Dice il testo di Isaia che, mentre il Signore si prendeva cura di loro, si moltiplicavano gli altari a Baal, alle divinità straniere, alla divinità straniera, le steli sacre. Un tentativo da parte del popolo di mettere insieme realtà diverse, il culto a Dio e il culto pagano. E' un po' la vicenda dell'uomo di tutti i tempi, e in particolare di questo tempo. Quello di mettere insieme tante cose, tanti modi di pensare, tanti modi di essere, tante fede diverse, tanti stili di vita diversi. In realtà, dimentichiamo quello che il Signore ha fatto di noi. E dimentica l'uomo chi è. Non solo creatura uscita dalle mani di Dio, ma figlio di Dio. La nostra altissima vocazione. Se non ci fossero motivi per essere felici, dal punto di vista oggettivo umano, ce n'è uno, quello di essere felici di Dio, che dovrebbe inondare di gioia la nostra vita, pur in mezzo alle difficoltà, con la certezza che il Signore è con noi, anzi è in noi, ed agisce in noi, se glielo permettiamo. Chiamati alla fedeltà e inviati, non solo gli apostoli. Abbiamo ascoltato la chiamata degli apostoli, la scelta che il Signore fa tra i discepoli di dodici per stare con Lui e per essere inviati. Uomini di tutte le provenienze, di tutte le estrazioni sociali, uomini che non sono proprio migliori degli altri. C'è il pubblicano, l'esattore delle tasse, c'è colui che lo tradirà, c'è chi lo rinnegherà. Uomini che si presentano con la loro fragilità, come la fragilità della nostra vita. quella che qualche volta nascondiamo, quella di cui qualche volta abbiamo paura che non sappiamo affrontare. Eppure in questo cammino di fragilità, che è anche cammino di santità, perché il Signore opera nella nostra fragilità, dimentichiamo questa presenza di Dio. Dimentichiamo che è Dio che agisce in noi. che irrobustisce le nostre gambe, le nostre braccia, che ci dà il dono del suo spirito, quella forza che ci permette di ascoltare e seguire il Signore, quella forza dell'amore che ci fa scegliere il progetto di Dio, che ci fa scegliere di fare la sua volontà sopra ogni cosa e trovare nella sua volontà, nel compiere la sua volontà, la nostra pace. La Vergine Santissima ha richiamato in questo luogo, come in altri luoghi, gli uomini alla conversione per ottenere la pace, per sperimentare la pace, per sperimentare la guarigione. l'uomo non avrà pace e non troverà guarigione, parliamo di una guarigione completa, non è qui il problema soltanto delle sofferenze fisiche, è una guarigione del cuore che è necessaria, una guarigione che ci faccia scegliere, operare tutto per il Signore, è una guarigione che dispone il nostro cuore al Signore. Questa guarigione la Vergine ci ha indicato come necessaria, consegnandoci un'arma potentissima, un'arma che ci fa mettere a parte tutte le altre armi che non servono a nulla, che è il Rosario, la Vergine del Rosario si presenta la Madonna a Fatima, Vergine e la Preghiera. Abbiamo bisogno in questo anno di preparazione al Grande Giubileo di riscoprire il senso, il valore, la bellezza della Preghiera. Fatima come Lourdes e come gli altri luoghi in cui la Vergine è apparsa ce lo ricordano con forza. La Vergine chiedeva la consacrazione al suo cuore immacolato. Si è fatta lei garante della salvezza, quella salvezza che viene da Cristo, quella salvezza che lei ha accolto totalmente nella sua vita e che è stata per lei sin dal primo istante fonte di beatitudine. se assumiamo i sentimenti del Signore, quei sentimenti che Maria ha fatto suoi, allora saremo quella risposta che il Signore attende, quella risposta che ci fa passare da creature deboli, creature fragili, creature incapaci di fedeltà, creature che hanno fatto esperienza del rinnegare il Signore, del tradire il Signore, ci farà fare il passaggio a quella esperienza altra che è la vita di comunione con il Signore, quella vita che ci è raccontata in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandiosità attraverso la vita di Maria. Maria ci parla già di terra nuova e di cieli nuovi. Lei si fa compagna di viaggio in questo tempo in cui temiamo per la sorte del mondo a motivo dei conflitti bellici sparsi in tutto il mondo. Il Santo Padre ha ricordato una guerra mondiale che si fa a pezzi in diversi luoghi. In questo tempo di trepidazione di ansia anche rispetto alle terre a noi vicine dove si sta facendo l'esperienza della violenza della sopraffazione del sangue del dolore vogliamo armarci dell'arma del rosario della preghiera del rosario. Forse tante volte anche noi abbiamo detto ma io cosa posso fare? Io posso moltissimo innanzitutto convertendomi pienamente al Signore permettendo al Signore di convertire la mia vita a Lui e poi posso pregare riscopriamo il valore della preghiera è un mondo nel quale viviamo dell'efficientismo noi cristiani noi fedeli siamo efficienti nella misura in cui sappiamo vivere di Dio sappiamo vivere di preghiera sappiamo avere un cuore una vita rivolta totalmente al Signore alla Vergine Santissima in questa celebrazione vogliamo presentare tutte le nostre ansie le nostre preoccupazioni tutte le nostre intenzioni di preghiera quelle che anche fidandosi della nostra preghiera ci sono state consegnate tutto deponiamo di l'anzia Maria perché Maria li porti dinanzi al Signore e tutto trasformi a cominciare dalla nostra esistenza di l'anima di l'anima Grazie. Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta fra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata. Benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolse con sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza. Governi in vita nuova quelli che Dio ha chiamati. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, Maria, li guidi come agli antichi della Chiesa e formare un cuor solo e un'anima sola. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i consagrati, vivono la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei supervi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti e confidare sempre al compiere la parola di Dio e a predire nel cammino della fede. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Dio Onnipotente, nella tua misericordia grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se mi accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta nostro dovere è fonte di salvezza. Renderti grazie, oh Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. osana, 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 osana nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osana, osana, osana nell'alto dei cieli. veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione ai peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci al male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donna le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua Messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Grazie. 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 E dall'ombra della morte non risorge, ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli della luce, dove carità e amore qui c'è Dio, fa che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio, e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine, dove carità e amore qui c'è Dio. Grazie. 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 Preghiamo. O Padre che nella memoria di Maria, Madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo adesso benedire tutti gli oggetti religiosi, quelli che portiamo, quelli che abbiamo acquistato in queste ore, in questi giorni. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Per intercessione della Beata Vergine di Fatima, dei Santi Francesco e Giacinta, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Portate a tutti gli uomini la gioia del Signore, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Il tredici maggio a Parve Maria, a tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. In mano un rosario portava Maria, che ha dita ai fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Grazie. Grazie.